Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! OEEE! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi tanta tanta attesa ultime ore prima di avere finalmente la patch 10.20 nuovo aggiornamento non sappiamo se andranno giù i server ma ci aspettiamo veramente grandi cose da questo nuovo update a partire ovviamente dal nuovo anzi vecchio putrido pantano con probabile prigione annessa fino a vedere tutte le modifiche che andranno fatte e soprattutto le nuove skin e i nuovi outfit Nel video di oggi parleremo oltre che di alcuni elementi già ufficiali di questa patch anche del torneo Twitchcon annunciato da pochissime ore anche un nuovo torneo con un monte premi da mezzo milione di dollari veramente incredibile tanta tanta roba per tenere sempre il competitive di Fortnite a livelli mondiali e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte del nostro Battle Royale prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE grazie di cuore ragazzi per supportare il canale quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto dov'è l'ho perso e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima l'ho fatta due giorni fa l'ultima raga la domandina ve la devo fare è una domandina che in realtà ho già fatto su Instagram ma sono molto curioso di vedere la community di YouTube cosa ne pensa? cosa ne pensi del nerf del brutto quindi del nuovo brutto oramai è un po' di giorni che stiamo convivendo con i nuovi robot nerfati in maniera veramente esagerata come sappiamo Epic Games o fa una cosa OP oppure quando la nerfa diventa una merda quindi ragazzi voglio sapere cosa ne pensate del nuovo brutto vi piace? non vi piace? l'ha nerfato troppo? lo devono eliminare dalla faccia della terra? scrivetemelo qua sotto nei commenti che ci tengo davvero tantissimo ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance è cambiato all'effetto andiamo subito subito ragazzi a parlare del primo argomento ovviamente volevo parlarvi degli aggiornamenti della patch 10.20 la cosa più attesa in poche parole di questi giorni dovrebbero arrivare anche le nuove sfide durante metà di questa settimana ovviamente ogni giorno ci sono sempre sfide a tempo limitato nuove per sbloccare un bel po' di punti esperienza e anche qualche schermata di caricamento andiamo a vedere i primi confirm 10.20 bug fix quindi confermati alcune risoluzioni dei bug sul battle royale ragazzi miglioreranno l'effetto sonoro del junk rift colgo l'occasione per darvi un consiglio se trovate un airdrop se ci passate vicino e avete un junk lanciate il junk rift esattamente dove c'è il fumo blu in questo modo apparirà nel cielo l'oggetto che taglierà l'airdrop e ve lo farà cadere praticamente in pochi secondi quindi oltre a raccogliere un oggetto leggendario garantito prenderete anche tutto il loot il farm il materiale chiamatelo come caspita vi pare del rift medificheranno sistemeranno ragazzi gli effetti sonori perché non è molto chiaro effettivamente dove è stato lanciato e poi problemi anche per alcuni giocatori che entrano in uno stato particolare quando escono dal brutto qualora fossero prima entrati nella nuova pinnacoli quindi nella zona dove non si può buildare alcuni dicono che diventano immortali altri in realtà hanno proprio bug fisici nel gameplay quindi fixeranno anche questo problema ma è questione appunto semplicemente di ore andando avanti ci sono anche dei bug modificati migliorati sistemati per save the world tornerà il carbid io non ho idea di che caspita sia perché non gioco a save the world ci sarà una nuova questline quindi una nuova storia narrativa per tenervi sempre dinamicamente accesi anche su save the world nuovo eroe che si chiamerà rad e anche ragazzi una nuova trappola ci abbiamo anche la descrizione che dice tu puoi danzare se tu vuoi e tu puoi andartene senza lasciarti nulla dietro sinceramente non saprei tradurre correttamente nuovo lama ragazzi il rad lama e ci sono il queen takes over the van again qualcosa probabilmente sempre relativo alle quest di save the world che io non conosco abbiamo anche altre modifiche dove i giocatori che che si sono loggati per la prima volta in questa season 10 hanno difficoltà a non vedere correttamente le quest verrà migliorata anzi sistemata anche questa cosa e poi si ripete ancora il lo stato del personaggio quando si entra dal brutto e si viene noccati da appena usciti dal brutto dove praticamente non si riesce più a manovrare correttamente il personaggio quindi ve l'avevo già detto sistemata anche questa modificati anche degli effetti visivi per il nostro dj yonder e per alcune coperture su ps4 distruggere un chest oppure una scatola di munizioni darà dei problemi cioè nel senso se la ittiamo più che la distruggiamo a volte non viene aperta a me non è mai capitato sinceramente ma probabilmente alcuni lo hanno avuto e quindi migliorerie anche su questo ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e parliamo del nostro nuovo torneo perché dico nostro nuovo torneo perché è un torneo davvero molto molto particolare innanzitutto è un evento dedicato ad un altro evento che appunto il twitch con 2019 che cos'è il twitch con 2019 è una specie di avete presente il games week ecco decuplicatelo a livelli incredibili e portatelo a san diego se non ricordo male in california dal 27 al 29 settembre interessantissimo questo torneo perché sappiamo che si chiamerà il twitch rivals ed è un torneo dove verranno selezionati i migliori portatori di contenuti in tutto il mondo solo che non funzionerà proprio in questo modo nel senso al twitch con ci saranno se ho capito bene i migliori creatori derivanti dall'oceania quindi poi probabilmente nel corso di questi mesi verrà spostato anche l'evento in altre tappe e prenderanno anche i server europei quindi potrebbe anche esserci qualche italiano che magari verrà invitato la figata del twitch rivals appunto il monte premi che sono 480 mila dollari mezzo milione in poche parole e la figata è ancora più grande è che ci sarà la possibilità da parte dei partecipanti di accedere proprio agli stage dove gli streamer e gli influencer stanno partecipando e provare a fare proprio delle partite con i loro streamer preferiti mi auguro davvero che venga portato anche qualcosa di simile qua in europa per appunto cercare di replicare ciò che già fanno al oltreoceano andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ve lo stavo già facendo vedere il nostro donato mostarda che va a modificare la sua location sapete che quando lui modifica le location di solito succede sempre qualcosa di particolare questa volta mette dusty che è ovviamente un chiaro riferimento ai magazzini dusty divote in inglese sono i nostri magazzini tra l'altro dopo avere modificato la sua location è andato a pubblicare cioè fortnite ha pubblicato quest'immagine sulla loro pagina tweet ufficiale ed è molto interessante perché si vede nel riflesso del casco del visitor un mecca in costruzione il che ci fa ricongiungere al fatto che il visitatore oltre ad aver fatto casini su casini razzi nella season 4 poi faceva il rift beacon adesso riporta le cose è stato pure il creatore del brutto non sappiamo bene quale significato abbia se non quello che vi ho appena detto magari sarà collegato con la storyline della season 11 perché secondo me il visitatore non ci abbandonerà così facilmente anche se in realtà mi auguro che nella prossima season ci sia di nuovo il tema di halloween beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 Grazie a tutti.